Il centro-destra ha appena riesumato pure i vitalizi per gli ex parlamentari, quelli per intenderci che erano stati aboliti nel 2018 dal Movimento 5 Stelle, i vitalizi veri per gli ex parlamentari ante 2012. Loro cosa hanno fatto? Nell'ultima seduta utile di questo Consiglio li hanno ripristinati e di cinque membri di questo Consiglio, quattro li hanno del centro-destra, uno del PD che si è astenuto ovviamente. Ma non provate anche voi un senso totale di schifo nei confronti della politica e non vi rattristano anche quelle persone oneste che faticano ad arrivare alla fine del mese che nonostante ciò, nelle ultime elezioni, hanno votato proprio questi soggetti che ripristino i privilegi della casta politica. È una tristezza unica.